Le tre demo audio che sono presenti nel sito sono state registrate in alta definizione con un fonico professionista, in modo che i tre brani suonati da Alessandro Marino abbiano un'alta qualità. Ascoltarli però dal vostro dispositivo smartphone o dal vostro pc non ha molto senso, a causa dei limiti stessi dei sistemi audio di questi device. Per ottenere un ascolto migliore è necessario collegare una buona cuffia hi-fi al vostro dispositivo con il mini jack sull'uscita audio. Solo in questo modo potrete avere un'esperienza di ascolto appagante, più vicina e realistica a quella che potreste avere ascoltando il resonance piano dal vivo con il suo suono naturale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.